Sassuolo-Milan termina con un pareggio 3 a 3 E questo è il risultato conclusivo della partita di oggi, 14 aprile 2024 A fare i tre gol per il Sassuolo, due giocatori Uno lo fa Pinamonti nel primo tempo, dopo pochi minuti a fischio di inizio di gara E gli ultimi due gol li fa uno Armand Laventier E anche il secondo sempre Armand Laventier Per quel che riguarda invece il Milan, a segnare è stato Leao nel primo tempo Gli altri due gol arrivano nel secondo tempo Uno a firma di Luca Giovic, l'altro a firma di Noah Okafor È stata una bella partita, le statistiche però sono pazzesche, buonissime per il Milan Un sacco di possesso di palla, una marea di passaggi Una precisione dei passaggi molto più elevata a livello percentuale Diciamo quindi che a livello statistico, sottolineo statistico, il Milan gioca meglio rispetto al Sassuolo Bene, complimenti dunque a entrambe le informazioni Iscrivetevi, commentate Ciao da Renato, un altro video